ahahah hai pure tu il codone, effetto, anche lui il codone quanto sei grosso aspetta, vai il checkpoint che mi prendi ah perchè non mi... dobbiamo scendere, road closed, perfetto asd, asd dove sei andato? quello sembra il ghiaccio e mo? un muro, perfetto non c'è un cazzo perfetto, la mappa finita ragazzi mi piace asd che guarda un treno, perfetto e come si spinge sto treno proviamo così aspeciniamo ahahah ahahah oh cazzo aspetta oddio oddio ah lo sta spingendo lui, aspetta che forse mi vuole mangiare oddio aspetta si fatti mangiare, guarda lui forse mi vuole mangiare e ci va in bocca no ma non hai denti, guarda la bocca è tipo un verginello va è un verginello, si ma vacci in bocca vediamo se ti puo ahahahahah oh mio dio oddio, piano 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 allora aspetta vai via brutto stronzo guarda che lui si fa mangiare perfetto, ma dove è rimasto? asd non ci passa perchè è un... aspetta 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 mi vuole mangiare perfetto siamo nello stesso punto di prima ok c'è tutti, non è vero aspetta ho un 10v, oh andiamo giù vediamo asd ma in realtà il dinosauro è una metro oddio il dinosauro è morto questo sembra che sia stato ucciso da uno spinosauro perfetto guarda la lingua oddio vi commessione oddio sono morto che cazzo è? ce l'ho entrato in bocca no vai indietro vai indietro e mi riprendi vai indietro no vai indietro e mi riprendi oddio non te lo vinteresti che coglione non voleva andarci in bocca è lui che mi è venuto in bocca perfetto che schifo la lingua maschi ma le convulsioni vero aspetta guarda come è fatto a salire? guarda i semafori intanto tutti rotti ovvio meno 5 punti alla patente cosa c'è qui? devo andare ciao amico come stai? guarda caso i policiali si salvano ok io vado no no se tu vai ti ammazzo ciao mimi imprendiamo imprendiamo la barca pesce oh ma perchè non cammì? così la blocchi guarda oddio guarda il dinosauro che nuota perfetto non li ho mai visti guarda l'occhio per tipo l'occhio rosso che guarda la barca si chiama fish non cade in acqua perchè ti mangia guarda che adesso cade ok perfetto lol lol ciao cos'è un elicottero? un elicottero? che cazzo c'è questo? un elicottero tieni 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 o cristo cristo è un minchione perfetto perfetto in fumo rifaremo la mappa ragazzi mi... cazzo 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 spodiamo 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 scendi 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 forse è riatterrato nella zona di P scendi oddio 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 attento dietro quanto è grosso aaaaaaaaaaaaaaaaaa ti prende ti prende ti prende ti prende sei morto oh 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 mi ha perfetto mi ha schiacciato cazzo cazzo il bottone oddio olè good job you there of lbp city la foto la foto i punti i punti ci sta vomitando guarda 8,9,10,11 perfetto che figo ok ok ciao mio mio e mo chiavi le chiavi di lbp city forse mio perfetto è finita ok adesso sono contenta abbiamo salvato lbp city come cazzo è lbp city ok siamo troppo forti è così vieni qua dove cazzo fa culo merda oh wala wala ti picchi ti picchi bastardo 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 ok io direi di salutare anche la gente no prima ti devo picchiare per me non ce la farei mai merda perfetto stai ricominciando da capo non è vero siamo ritornati al pod e comunque ragazzi questo era tutto io vi saluto da zambitec è tutto ciao 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 ragazzi alla prossima